Si è svolta, domenica 14 luglio, nel borgo antico di Campomaggiore, in linea con il fine del progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, Capitale per un giorno, la giornata dedicata al piccolo centro, costruita di una memoria, di un esempio oggetto in questi anni di attenta rivalutazione. La storia emblematica di Campomaggiore Vecchio, con il disegno visionario di una nobile famiglia, Irendina, che tra il 1641 e il 1885 generarono uno sviluppo demografico e una capacità attrattiva del borgo. Una città ideale, concepita secondo criteri innovativi per il tempo, e con una visione antesignana di alcune correnti filosofiche che richiamano al socialismo utopico, tanto da essere poi definita città dell'utopia. In occasione di tale iniziativa, il Comune di Campomaggiore, in coproduzione con la Fondazione Matera Basilicato 2019, ha presentato la giornata intitolata L'Utopia del Conte, un percorso culturale di valorizzazione del borgo di Campomaggiore Vecchio, attraverso una rievocazione storica che prevede una replica degli stili di vita del villaggio, città di fondazione voluta e pianificata dalla famiglia Irendina. Campomaggiore non è solo una città fantasma della Basilicata, ma è una storia raccontata dalle sue rovine, che parlano al visitatore che si aggira tra le mura silenziosa. Passeggiando tra i resti del paese, vedrete il palazzo patronale che si erge orgoglioso su quella che un tempo era la piazza dell'antico borgo. Di fronte ad esso si staglia il campanile della chiesa, abbracciato dalla vegetazione che ha trovato ospitalità tra le mura diroccate. La storia di Campomaggiore è una di quelle che vale la pena raccontare, e così ogni estate, nel successivo scenario della città fantasma, si riuniscono attori ed acrobati per ricordare il sogno di Todoro Rendina, che vuole trasformare Campomaggiore, all'epoca un piccolo paese all'ombra delle Dolomiti Lucane, in quella che viene ricordata come la città dell'utopia. La storia di Campomaggiore ha tutti gli ingredienti di una fiaba, tranne le tofine. C'è un conte ricco e nobile, il conte Todoro Rendina, che, dopo aver viaggiato in Europa, studiando le teorie utopistiche di Robert Owen e Charles Fourier, decide di creare un paese diverso da tutti gli altri, un paese dove non esista la povertà. Sceglie di attuare il suo progetto in Basilicata, in un piccolo paese di contadini, Campomaggiore. È il 1743, quando costruisce il palazzo patronale di Campomaggiore, sotto la chiesa e le case dei contadini. Le abitazioni vengono costruite seguendo criteri urbanistici innovativi, che permettono agli abitanti di muoversi agevolmente e di avere a disposizione spazio sufficiente per vivere in condizioni igieniche ottimali. Il conte Rendina, inoltre, stabilisce delle norme che regolino la vita del paese. Ogni contadino, ad esempio, deve avere a disposizione un'abitazione con un piccolo apprezzamento di terra che gli permetta di vivere. Ogni contadino deve avere legname sufficiente per scaldarsi, con l'obbligo di piantare tre alberi da frutto per ogni fusto abbattuto. L'idea è buona e pare funzionare. Campomaggiore cresce e arriva a contare 1524 abitanti nel 1885. Il conte non ha fatto però i conti con i capricci della natura. Così, in quello stesso anno, il paese viene raso al suolo da una tremenda frana. I contadini, per fortuna, riescono a mettersi in salvo, ma Calmo Maggiore è ormai dotto a un cumulo di macerie. I cittadini del paese distrutto provano a ricostruire le loro case, ma il terreno su cui il conte Rendina ha costruito il suo sogno è soggetto a continui smottamenti che rendono vano ogni tentativo, lasciando ai posteri un paese fantasma, testimonianza concreta di un'utopia infranta. Probabilmente la storia del conte Rendina non è una di quelle letofine, ma è anche grazie a quella frana che oggi, chi vista Campomaggiore, può passeggiare in una città fantasma affascinante e suggestiva. L'edificio più spettacolare è il palazzo patronale, che si affaccia su quella che un tempo era la piazza dei voti, così chiamata per ricordare il giorno in cui i primi coloni si riunirono per scegliere di seguire il conte nella sua idea. Di fronte al palazzo si ergono i resti della chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo. Intorno sono ancora visibili le mura delle antiche case contadine. A circa tre chilometri da Campomaggiore Vecchio si può visitare il Casino della Contessa, residenza estiva di Rendina. E in questo magnifico scenario che nei fine settimana di agosto va in scena la città dell'utopia. Spettacolo teatrale che tra luci, effetti speciali e danze aeree racconta la storia del conte Todoro Rendina e del suo sogno infranto. Un paese dignitoso e operoso che ha vissuto una storia meravigliosa e che ha donato alla provincia grani, oli e vini tra i migliori che si potesse costruire qui. La storia del conte è una storia che dovete conoscere assolutamente. Noi proveremo stasera a raccontarvi i suoi tratti essenziali. Proveremo a dirvi come un signore decise a un certo momento di donare un piccolo appezzamento di terra, della calce e delle travi affinché venissero abbandonate tutte le capanne e che tutte quelle capanne diventassero case. Era un uomo che aveva chiaro il concetto di uguaglianza sociale. Quello che disse al suo architetto Patturelli fu questo. Per favore, ogni piccolo appezzamento di terreno sul quale insisterà una casa deve essere perfettamente uguale all'altro. Una scienza sociale perfetta, una filosofia reale. Ecco perché forse non è stata un'utopia, lo è diventata dopo e lo è diventata prima nella sua mente, nella sua immaginazione e in quella dei suoi avi, ma è stata lui che l'ha perseguita. E stimolati da queste donazioni che il conte faceva al popolo di Campomaggiore che era partito con 80 abitanti. La popolazione continuava ad affluire dai paesi vicini e poi da quelli anche un po' meno vicini. E da 80 le famiglie crescevano, crescevano sempre di più. Il conte continuava a battersi per l'abbattimento della povertà di queste persone e non si accontentava mai, pretendeva in cambio dei piccoli cenzi. Per il resto andava in giro a procurare Arieti Merinos, Berri Casertani e ne faceva dono a chi glieli chiedeva e qualche volta donava anche, se ce n'era bisogno, un piccolo contributo in denaro. In qualunque altra parte del mondo, quando una popolazione abbatte la propria povertà, e non è che diventa ricca, perché i campomaggioresi di fine Settecento non sono diventati ricchi, però hanno potuto gestire un po' di pane, un po' di prodotti della terra, hanno potuto superare la povertà, hanno potuto pagare piccole tasse. Quando tutto questo nel resto del mondo accade, accade sempre in seguito ad una rivoluzione. E oggi? Oggi voi lo sapete che giorno è? Oggi, del tutto casualmente, o forse no, oggi è il 14 luglio del 2019 e 230 anni fa, lontano da qui, in un paese che si chiama Francia, in una città che si chiama Parigi, è accaduta una delle più grandi rivoluzioni dell'epoca moderna, nella quale il popolo, affamato ed oberato di tasse, ha deciso di insorgere e con il sangue ha rovesciato il sistema politico. Tutto questo a Campomaggiore non è accaduto, è accaduta la rivoluzione, la gente ha migliorato la propria posizione, ma senza spargere una sola goccia di sangue. Per la prima volta nella storia i nobili, un nobile, ha deciso di privilegiare il popolo perché aveva capito che il benessere collettivo era più importante del benessere personale. e della prima e forse più grande lezione che ci dà Teodoro Rendina. Cosa ci sta dicendo Teodoro Rendina? Che le utopie e le teorie non servono a nulla fino al momento in cui diventano realtà. Poi, un triste giorno, molti anni dopo, un triste giorno di febbraio del 1885, un singhiozzo della terra ha aperto una ferita che ha inghiottito alcune case, ha distrutto tutte le altre e soprattutto ha messo in fuga, per ragione di sicurezza, tutta la popolazione di questo borgo che dagli 80 abitanti iniziali era arrivata a contarne oltre 1500. e allora ci chiedevamo un'ode, ci chiedevamo di sapere come poter raccontare questo posto con le parole migliori. Un'epitalfa, un'elegia come quella che Manzoni scrisse per Napoleone e i fusi come immobile, dato il mortal sospiro, beh, quest'ode l'ha scritta un successore di Teodoro Rendina, Gioacchino Cutinelli Rendina. Ha scritto un'ode esattamente come si scrivono le odi, al tempo passato e magnificando questo luogo. Allora si potrebbe dire che l'ode viene fatta nei confronti di una persona e che Gioacchino l'ha fatta invece nei confronti di un luogo e nemmeno questo è del tutto vero. Gioacchino scrive Era Gaio, era Gaio, questo povero campo maggiore, con le sue casette allineate ed uniformi e tutte in fila come le tende di un campo, coverte da tegole rosse ed ombreggiate da piante di fichi e di viti che salendo lungo le mura facevano ristoro innanzi all'architrave e alla finestra. E fin qui Gioacchino parla esclusivamente di luoghi, di palazzi, poi dice sulla piazza un po' decentrata rispetto all'abitato, torreggiava, questo è il termine che usa, torreggiava perché questo palazzo c'era quattro torri, torreggiava scuro e severo il palazzo dei Rendina e di riscontro vera la chiesa, bianca e pulita che pareva una sposa. Qui Gioacchino personalizza gli edifici perché se dice che la chiesa è bianca e pulita come una sposa e il palazzo è scuro e severo, nelle parole di Gioacchino, questo palazzo è lo sposo e nelle parole, nelle leggia di Gioacchino Cutinelli Rendina c'è l'idea chiarissima che questo luogo per quanto abbandonato, per quanto sfortunato sopravvive grazie all'unione di due forme che sono due persone, la sposa che è la chiesa e lo sposo che è il palazzo. E oggi, oggi che siete tutti arrivati qui, oggi voi non siete arrivati soltanto in un luogo abbandonato, oggi voi siete saliti su una macchina del tempo, su una macchina del tempo che ha spostato le lancette al 1700 perché se vi guardate intorno, li ritrovate, quei popolani lì, li ritrovate quei sorrisi lì, la ritrovate quella gente che c'era un tempo qui e non è finita perché tra poco assisterete ad un altro racconto, il racconto fatto da chi ha edificato l'editto di questo paese. Più avanti troverete un personaggio storico che ci racconterà come tutto questo ebbe inizio. E infine non poteva mancare l'artefice di tutto questo. Il conte Teodoro Rendita a cavallo saluterà il suo popolo e tutti quanti lo applaudiranno e lo vedranno scomparire. Io utilizzerò le sue stesse parole, quelle che dirà il conte Cutinelli Rendita che per la prima volta dopo tanti secoli tornerà a Campo Maggiore. Il conte dirà viva Campo Maggiore, abbasso la povertà, viva la libertà. Maggiore, abbasso la scuola con tre figli. Io non sapevo come amministrare tutti questi beni e non fosse altro che per quel santo uomo dell'abate Fernando che era peraltro mio cognato. Chissà cosa sarebbe stato di tutto questo. Era il 1741 quando io firmai un atto ma non ero consapevole di che cosa sarebbe successo dopo che avevo firmato quell'atto. Quanta gente avrei fatto del bene? E fu così che pur non avendo conoscenze architettoniche ma una donna sa bene quello che è lo spazio perché ero mamma di tre figli. Questi figli che si erano fatti spazio nelle mie viscere. Allora io sapevo bene che per crescere c'era bisogno di spazio. Sicché ad ogni casa diedi un giardino di 20 palmi, ad ogni famiglia 12 tomoli di terra e per ogni famiglia c'era anche l'uso della legna. Ad un patto però che per ogni pianta che veniva recisa bisognava piantarne tre da frutto. Da tutto ciò si è ricavato un'equa tassa e così che il bordo ha cominciato a crescere e a diventare un paese meraviglioso. Ma chi mai avrebbe pensato tutto questo? Io, umile, trignante, inconsapevole, ho fatto sì che il volere di mio suocero attraverso il figlio Nicola Rendina prematuramente scomparso si avverasse. Io, che volevo che restasse il nome dei Rendina nella storia del popolo, no, è rimasto il mio nome, Marianna Proto Rendina. E così fu che ne fui felice nonostante il dolore.